Assessore Luigi Medi Dopo decenni di vacazio l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Ciro Borriello vuole dotare la città di Torre del Greco di uno strumento importantissimo, di uno strumento urbanistico importantissimo che è il PUC. Proprio per questo avete avviato uno sportello d'incontro, un urban center per ascoltare quelle che sono le esigenze di imprese, di ditte ma anche di semplici cittadini che in qualche modo possono dare dei suggerimenti. Come sta andando questa attività? L'attività sta andando molto bene, tanto è vero che l'Uban Center sta avendo molte richieste da parte degli operatori dei vari settori economici del territorio. Sono incontri che si svolgono su appuntamento con i nostri responsabili dei vari uffici e in effetti l'amministrazione ha la volontà di ascoltare quelle che sono le problematiche del territorio e degli operatori stessi che operano sul territorio. Quindi questo è un appello che faccio a tutti quelli che in qualche modo vedranno questo video di poter contattare il nostro ufficio per poter esporre quelle che sono le loro problematiche e per segnalare tutto ciò che possa far sì sia fondamentale per lo svolgimento di questa attività. Abbiamo detto il PUC, abbiamo detto questo piano urbanistico comunale che in qualche modo è indispensabile strumento per poter poi portare avanti tutte quelle che sono le esigenze urbanistiche della città. Quali sono le linee guida che in qualche modo ha tracciato l'amministrazione? Le linee guida sono quelle ovviamente di cercare in qualche modo di poter ridurre al massimo i vincoli che il nostro territorio purtroppo ha e quindi di conseguenza tramite il PUC cercheremo con riferimenti regionali con l'approvazione dello stesso di poter superare quelle che sono le difficoltà urbanistiche che abbiamo sul territorio. Quindi con una serie di elaborati cercheremo di dimostrare che il nostro territorio ha delle potenzialità sicuramente superiore a quelle che attualmente in qualche modo portano a un freno dovuto a questi vincoli che bloccano le varie attività. Vincoli che in qualche modo si punta a superare o comunque a ridurre? Sicuramente cercheremo di fare il possibile per ridurre perché sono vincoli che ovviamente non persistono solo sulla città di Torre del Greco ma su tutti i paesi della zona vesuviana quindi in collaborazione con la regione ed eventualmente anche con il governo centrale cercheremo di poter far sì che questi vincoli si possano sicuramente ridurre e cercare di dare più spazio a chi ha la volontà di poter investire sul nostro territorio.